Prego. Grazie Presidente. Il tragico incidente del 23 maggio 2021 sulla funivia Stresa-Mottarone è una grande ferita per il Paese. Desidero quindi esprimere nuovamente il profondo cordoglio del Governo nei confronti dei familiari delle vittime. Quanto all'esatta dinamica dell'incidente e all'accertamento delle relative cause, sono come noto in corso le indagini da parte della competente Procura della Repubblica, alla quale le strutture del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili stanno fornendo e forniranno tutte le necessarie informazioni. L'Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio-Ossola ha fornito una relazione circa il drammatico evento che si può così sintetizzare. Domenica 23 maggio 2021, poco dopo le ore 12, è precipitata al suolo la cabina della funivia Stresa-Alpino-Mottarone, in zona impervia e boschiva. Dalle prime ricostruzioni appare che l'incidente sia stato innescato dal cedimento del cavo di traino della cabina nel tratto prossimo all'arrivo alla stazione della funivia posizionata in vetta alla montagna. A seguito della rottura della fune traente, la cabina, a causa del mancato intervento del freno sulla fune portante, dopo essere retrocessa velocemente lungo la via di corsa, ha urtato il pilone di sostegno ed è precipitata nel vuoto. A bordo della cabina erano presenti 15 persone, persone. 13 sono decedute sul colpo. Due bambini di 6 anni, a causa delle gravi ferite riportate, sono stati elitrasportati in Codice Rosso a cura del Servizio 118 di Novara presso l'ospedale Regina Margherita di Torino. In serata, uno dei bimbi è deceduto, portando così a 14 il numero delle vittime totali. L'altro bambino versa ancora in prognosi riservata. I soccorsi immediatamente attivati hanno portato sul luogo personale dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Soccorso Erpino, dell'emergenza 118 dell'ospedale Maggiore di Novara e della Protezione Civile della Regione Piemonte e alcuni volontari di diverse organizzazioni. Anche il Prefetto, unitamente al questore di Verbania, ha raggiunto il luogo del disastro appena preso dell'evento. L'area dell'incidente non era raggiungibile se non con mezzi fuoristrada e con l'elicottero, per il quale è stata individuata un'area di atterraggio a 300 metri a monte dell'impatto. Considerato lo scenario, i Vigili del Fuoco, al fine di effettuare una ricognizione aerea, hanno allertato il nucleo SAP per l'uso dei droni. Le strade di ricongiungimento dalla Vetta e il Mottarone sono state chiuse al pubblico e presidiate dalle Forze dell'Ordine, per permettere ai soccorsi di intervenire più celermente. La Procura della Repubblica di Verbania ha disposto il sequestro della funivia per il conseguente iter giudiziario e l'intera area dell'incidente. È stata sottoposta a sorveglianza. La domenica stessa, appena informato dell'incidente, ho promosso la costituzione di una commissione ispettiva del Ministero con il compito di individuare le cause tecniche e organizzative che hanno provocato il gravissimo incidente. Il Capo del Dipartimento per i Trasporti e la Navigliazione del Ministero ha firmato il decreto istitutivo della Commissione di Esperti durante la stessa giornata, Commissione preseduta dal Professor Gabriele Malavasi, docente presso la Facoltà di Ingegneria Civile dell'Università La Sapienza di Roma, che dovrà redigere una relazione dettagliata da presentare nel più breve tempo possibile. Il giorno successivo all'evento, cioè lunedì 24 maggio, alle ore 10 mi sono recato a Stresa per partecipare a una riunione tecnica a cui erano presenti il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il Presidente della Provincia, Arturo Lincio, il Sindaco di Stresa, Marcella Severino, e vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile del 118 e del Soccorso Alpino. Dalla disamina dei fatti illustrati da tutti i presenti è emersa la prontezza nella risposta del sistema di soccorso, che compatibilmente con le suddette asperità del luogo di operazione si è caratterizzata per la tempestività e la totale collaborazione di tutti gli enti. Al termine della riunione mi sono recato presso l'ospedale per incontrare i parenti di un nucleo familiare che ha perso la vita nell'incidente. In particolare i familiari delle vittime Vittorio Zorloni, Elisabetta Persanini e Mattia Zorloni, il bambino deceduto all'ospedale Regina Margherita di Torino, presenti alla Camera Ardente ho espresso il cordoglio, oltre che mio personale, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e di tutte le istituzioni. Il Sindaco di Stresa ha assicurato la disponibilità a farsi carico dell'ospitalità in strutture alberghiere locali per i familiari delle vittime che ne avessero necessità, mentre l'ASL ha garantito la presenza di psicologi propri e volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Verbani. La notte del 25 maggio la Compagnia Carabiniere di Verbania ha eseguito, su disposizione della locale Procura della Repubblica, il fermo DPG del Neconfronte di Luigi Nerini, amministratore unico della SRL Ferrovie del Mottarone, Gabriele Tadini, operaio con mansione di caposervizio della Società Ferrovie del Mottarone, Enrico Perrocchio, ingegnere e direttore di esercizio, e Gabriele Tadini, caposervizio della medesima SRL. Nel corso dell'attività di indagine, a carico dei predetti sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza, in ordine al reato di rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni del lavoro, dal quale sarebbe derivato il disastro. In particolare, l'attività investigativa ha permesso di accertare i gravi e concreti elementi di responsabilità in capo Altadini, il quale, pur consapevole dei potenziali rischi con l'assenso del Perrocchio e del Nerini, ha consentito la messa in funzione dell'impianto con la presenza, su una delle due cabine, del dispositivo cosiddetto forchetta, che impedisce l'eventuale attivazione del sistema di frenaggio di emergenza, al fine di evitare il continuo blocco dell'impianto causato proprio dal ripetuto azionamento, apparentemente ingiustificato, del dispositivo frenante, che da circa un mese presentava anomalie. La presenza del suddetto dispositivo a forchetta, accertata in fase di rilievi tecnici eseguiti dal personale del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Verbania, ha impedito, all'atto della rottura del cavo traente, l'arresto della cabina, che in quel momento stava salendo in vetta con conseguente verificarsi dei fatti. I fermati, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Verbania. La Commissione del Ministero istituta domenica scorsa svolgerà approfondimenti specifici che si aggiungono agli accertamenti della Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, organismo investigativo indipendente previsto dalla normativa europea. La Direzione Generale ha già avviato un'inchiesta finalizzata ad accertare le cause dirette e indirette dell'incidente e a individuare le azioni più opportune per evitare il rischio di ripetersi di eventi analoghi, fermo restando l'accertamento dell'eventuale irresponsabilità di esclusiva competenza della Magistratura. Allo stato attuale delle informazioni raccolte in relazione all'impianto in questione, aperto al pubblico esercizio nel 1970, risulta che il 12 agosto del 2016 è stato rilasciato dall'Ufficio Speciale per i Trasporti e Impianti Fissi Ustif, organo periferico del Ministero, competente per territorio, il nulla osta tecnico alla riapertura al pubblico esercizio a completamento dei lavori di revisione generale e di verifiche e prove svolte nei giorni 2, 3, 4 e 11 agosto 2016. Nei giorni 12 e 13 luglio 2017 è stata effettuata dallo stesso Ufficio la visita di ricognizione preliminare al rilascio del nulla osta tecnico all'esercizio notturno degli impianti, poi rilasciato il giorno 19 luglio 2017. Nei giorni 29 e 30 novembre 2017 è stata effettuata la visita calendariale, con la partecipazione di funzionari Ustif, prevista dopo il primo anno della revisione generale. Per consentire l'esercizio pubblico in assenza del vetturino, sulla base del voto numero 3 del 2017 della Commissione Funicolari Aeree e Terrestri, organo consultivo del Ministero in materia funiviaria, il 14 dicembre 2018 è stata effettuata la visita di ricognizione per la verifica del rispetto delle prescrizioni previste dallo stesso voto. In base alla normativa tecnica vigente, la prossima visita da parte dell'Ustif era calendarizzata per il corrente anno. Per quanto riguarda i controlli svolti dal gestore per mezzo di una società incaricata, questi sono stati effettuati a luglio del 2017 e successivamente tra novembre e dicembre 2020. In particolare sono stati effettuati controlli specifici sulle funi. A novembre del 2020 sono stati svolti controlli magnetoscopici sulle funi portanti, sulle funi traenti e sulla fune di soccorso. Infine, a dicembre 2020, una società specializzata ha effettuato l'esame visivo delle funi tenditrici. In merito alle caratteristiche dell'impianto, gli elementi forniti dagli uffici tecnici del Ministero indicano che l'impianto è stato originariamente realizzato nel 1970 dal costruttore Piemonte Funivie, su progetto degli ingegneri Azzaroli e Carlevaro, ed è della tipologia Funivia-Bifune-Avai-Vieni. L'impianto è dotato di due funi portanti, sulle quali sono sospesi due veicoli. Il movimento avviene in modo alternato da monte a valle e viceversa. I due veicoli si muovono in direzione opposta, con moto alternato, per effetto di una fune traente ad essi collegata. La fune traente, chiusa ad anello, detto anche anello trattivo, è messa in movimento dalla rotazione di una puleggia motrice posta nella stazione motrice. L'impianto è diviso in due tronchi, quello inferiore, Stresa-Alpino, alla stazione motrice a monte, quello superiore, Alpino-Mottarone, alla stazione motrice a valle, e dunque sono ubicate le due stazioni motrici nello stesso edificio. Nel tronco inferiore la quota delle stazioni è pari a 205 metri per quella di valle e 803 metri per quella di monte. Nel tronco superiore la quota delle stazioni è di 803 metri per quella di valle, 1.355 metri per quella di monte. Nella stazione motrice è presente un argano motore azionato elettricamente, dotato di due freni, che ha la funzione di azionare il movimento della fune traente, di regolarne la velocità o di arrestarne il moto. Nella stazione di rinvio sono presenti le puleggie di deviazione dell'anello trattivo e gli ancoraggi delle funi portanti. La lunghezza sviluppata dall'impianto è di 2.338 metri per il tronco inferiore e 2.999 metri per il tronco superiore. I rispettivi dislivelli sono 104 metri e 577 metri. Ogni tronco ha tre sostegni intermedi tra le stazioni, i cosiddetti piloni. Le funi portanti hanno un diametro di 56 millimetri e quelle traenti di 25 millimetri. L'impianto è inoltre dotato di un anello trattivo a sé stante, che ha la funzione di movimentare un carrello di soccorso che si muove sulla fune portante e viene utilizzato per raggiungere veicoli eventualmente bloccati in linea. La fune di soccorso ha un diametro di 16 millimetri. Il veicolo è costituito da una cabina collegata alla fune portante mediante una sospensione, costituita da una struttura in acciaio, che termina con un carrello dotato di ruote a gola che si muovono sulla fune portante, di dispositivi antisvio e di freni agenti sulla fune portante. La cabina ha una capienza massima di 40 passeggeri, oltre al vetturino, ma in considerazione dell'utilizzo in assenza di vetturino la capienza è stata limitata a 15 passeggeri, riducendo tra l'altro la velocità di marcia, che nel tronco superiore è di 5 metri al secondo anziché 7 metri al secondo. Il carrello è dotato di otto ruote attraverso le quali distribuisce il peso del veicolo lungo la fune portante e ne garantisce il movimento. I dispositivi antisvio hanno la funzione di impedire che le ruote del carrello si disaccoppino dalla fune portante. Il freno sulla fune portante è costituito da pinze che possono stringere la fune portante e generare l'azione frenante per arrestare il carrello per effetto dell'attrito. La chiusura delle pinze sulla fune avviene per effetto di una molla. Durante il movimento le pinze sono mantenute aperte da un cilindro idraulico in pressione che esercita una compressione della molla e quindi l'annullamento dell'azione frenante. Per ottenere l'azione frenante si riduce la pressione del cilindro in modo da rilasciare le molle e far chiudere le pinze sulla fune. La riduzione della pressione del cilindro viene comandata automaticamente dalla tensione della fune traente. Pertanto una riduzione della tensione e un suo annullamento dovuto alla rottura della fune traente, peraltro un evento molto raro nell'esperienza italiana, provoca automaticamente l'intervento del freno e l'arresto del veicolo. Parimenti, un'avaria che provoca la perdita di pressione nel circuito idraulico comporta l'intervento del freno. La perdita della pressione nel circuito idraulico comporta il rilascio della molla e la chiusura del freno, con conseguente azione frenante sulla fune portante. Nell'impianto in questione il veicolo è collegato alla fune traente mediante i cosiddetti attacchi a teste fuse di forma conica. La testa fusa è ottenuta per fusione di una lega metallica sulla parte terminale della fune, i cui fili elementari vengono aperti a pennello. Altre tipologie di attacchi sono quelli che utilizzano gli avvolgimenti dell'estremità della fune su oppositi tamburelli e il collegamento con morsa su funa impalmata. La concessione dell'esercizio dell'impianto, in precedenza assegnata alle ferrovie del Mottarone SRL, di proprietà della famiglia Nerini, a seguito della revisione generale effettuata nell'anno 2016, è stata assegnata in un primo tempo alla società Funivia del Mottarone, costituita dalla Leitner S.P.A. e dal signor Carlo Samonini, capo servizio dell'impianto. Successivamente la concessione è stata riacquisita dalle ferrovie del Mottarone SRL, in capo al signor Luigi Nerini. La competenza amministrativa sull'impianto è attualmente affidata all'Unione Montana, alta ossola, con sede in Crodo. Il modello di sicurezza della gestione dell'impianto prevede la figura del direttore di esercizio, figura che deve essere dotata di specifica abilitazione da rilasciare a seguito della verifica dei requisiti professionali e di apposito esame presso l'Ustif, il citato organo periferico del Ministero, con competenza sulla vigilanza sulla sicurezza. La nomina direttore di esercizio di un soggetto abilitato, proposta dalla società esercente, è sottoposta a rilascio da parte dell'Ustif di un nulla osta per la successiva autorizzazione da parte dell'ente territoriale competente. Il direttore di servizio opera obbligatoriamente avvalendosi di un capo servizio, anch'esso munito di appositi requisiti e abilitazione rilasciata dall'Ustif. Il direttore di esercizio è responsabile dell'andamento dell'esercizio dell'impianto e della sua sicurezza, sia nei confronti dell'esercente, sia nei confronti degli organi ministeriali proposti alla vigilanza sulla sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi. In ultimo, è utile ricordare che la normativa vigente sui controlli prevede che questi ultimi debbano essere eseguiti periodicamente, quotidiani, mensili, trimestrali, annuali, pluriennali, attribuendo precisi compiti ai diversi operatori. I controlli periodici più rilevanti sono effettuati alla presenza dell'Ustif, alcuni dei quali comportano a scadenze predeterminate il rilascio di un nulla osta per la prosecuzione degli esercizi. In particolare, i controlli dei freni e sulla portante devono essere effettuati sia giornalmente per quanto riguarda la loro funzionalità, sia annualmente per quanto riguarda la calibrazione. I controlli sulle funi e i loro attacchi sono effettuati sia mensilmente, controlli di tipo visivo, sia periodicamente, controlli di tipo strumentale. La sostituzione della fune è prevista quando dai controlli strumentali si evidenzi una riduzione della sezione resistente superiore a una certa soglia definita dalla normativa di settore nazionale ed europea. Peraltro in continuo aggiornamento. Il manuale d'uso e di manutenzione, il regolamento di esercizio di cui è dotato ogni impianto dettagliano azioni, procedure, controlli e criteri di gestione cui attenersi. Per ciò che concerne la normativa nazionale relativa al regime dei controlli e delle attività manutentive degli impianti, essa è basata sul decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015 numero 203, sul decreto direttoriale numero 1 del 7 gennaio 2016, sul decreto direttoriale 11 maggio 2017, sul decreto dirigenziale numero 144 del 18 maggio 2016, nonché da ultimo sul decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 gennaio 2021 numero 28, adottato in attuazione delle previsioni di cui è l'articolo 14 terra del decreto legge numero 23 del 2020. Detti decreti prevedono tempistiche rigorose e attribuiscono specifiche responsabilità al direttore di esercizio dell'impianto, nominato dal gestore in possesso dei requisiti professionali accertati dall'Ustif. Come già ricordato, sono previsti in capo all'esercente l'esecuzione di ispezioni annuali, di controlli giornalieri, settimanali e mensili. In caso di interruzione per periodi superiori a un mese, qual è quella determinata dall'emergenza sanitaria, prima della ripresa del servizio è necessaria l'effettuazione da parte del gestore di specifici controlli. Ricordo anche che il Governo ha sempre escluso la possibilità di estendere to cure la durata della fine vita tecnica degli impianti in ragione del fermo da Covid-19. Grazie.